Non lo so, a me mi ha dato un enorme piacere fino ad oggi essere il CT perché mi sono divertito, quindi vorrei continuare a farlo e quindi per questo devo ringraziare i giocatori che sono stati bravi, quindi grazie a loro perché mi hanno fatto divertire e questo è stato molto importante. Un'altra domanda velocissima, c'è grande preoccupazione soprattutto in Inghilterra per i contagi che aumentano ma non sarebbe meglio cambiare sede o è troppo tardi per questo? Non lo so, noi abbiamo la doppia dose, siamo tranquilli, siamo tranquilli perché sappiamo che possiamo contare su giocatori bravi e chiunque andrà in campo domani farà quello che ha fatto fino ad oggi, quindi giocherà bene, quindi per questo siamo tranquilli. Però le cose che abbiamo un po' ancora in dubbio le aspettiamo fino a domani perché domattina faremo un allenamento e vedremo, però presso a poco ci siamo. Insomma, giocare a Wembley deve essere un piacere perché a volte ci sono giocatori che per una vita non ci giocano qua e quindi in uno stadio così spettacolare credo che debbano veramente giocare così bene perché lo stadio merita, quindi siamo tranquilli. Io credo che i ragazzi insomma quando si gioca a calcio poi si vuole andare a giocare in stadi come questo e quindi insomma io credo che debbano veramente come ho detto prima essere felici e come ho detto quando si gioca in un tempio del calcio come Wembley bisogna rispettarlo e cercare di giocare bene, quindi per questo io spero che lo facciano domani e sono sicuro che lo faranno.